10 semaforo 5, 4, 3, 2, 1 andiamo Alessio, 50 sconnessi in destra 4 più tieni in sinistra 4 in sinistra 3 più lunga 30 e attenzione sporco, destra 2 più sul ponte in attenzione sinistra 3 falla in destra 5 in sinistra 6 e subito addosso in sinistra 3 più lunga lunga la ringhiera sporco in destra 4 lunga sinistra 5 lunga lunga 30 sconnessi sinistra 6 subito stacca in attenzione ritarda destra 2 sinistra 3 per destra 4 più sconnesso in destra 3 aggancia poco in uscita sporco in sinistra 4 meno lunga 50 tieni sinistra sinistra 5 taglia e annulla in sinistra 3 più ritarda e accerno sinistra 3 più tieni attenzione sporco destra 2 in sinistra 3 più 3 più per destra 6 e taglia sinistra in destra 4 più aggancia per sinistra 6 alla ringhiera sinistra 3 più 2 tempi dentro la seconda in destra 3 più lunga sporca 3 più lunga sporca no no grande e vai al palo attenzione destra 3 aggancia sporca in sinistra 4 in sinistra 3 più sporco subito destra 3 sinistra 1 sale in destra 4 30 sinistrosi al palo 20 sinistrosi in sinistra 3 poco si ritarda per inversione destra 1 ti raccomando qui alle 50 sinistra 6 lunga lunga in sinistra 6 al palo in destra 3 più ritarda scollino subito tieni destra attenzione sinistra 3 più 3 più in destra 3 più e subito destra 3 meno in sinistra 3 più gira in destra 3 più in sinistra 3 lunga lunga 50 destra 6 in accenno destro e a rail tieni destra destra 4 in sinistra 3 meno ritarda in destra 2 più in sinistra 3 tieni in attenzione destra 3 lunga in destra 3 in sinistra 3 sporca attenzione e 100 mossi vai vai giù giù se a sinistra in destra 4 meno e se a sinistra al muretto sacrifica sinistra 3 meno lunga 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 in destra 3 meno lunga 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 mossa in sinistra 3 lunga 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 70 in a fila destra 3 lunga ritarda falla 100 al cartello attenzione stacca chicano ingresso sinistro meno 3 sinistra 6 200 e attenzione stacca chicano ingresso sinistro in sinistra 3 diventa 3 più lunga al muro in destra 2 più lunga lunga al muro 2 più lunga lunga in sinistra 3 più 3 più per destra 4 meno ritarda in sinistra 4 meno aggancia poco 50 in in destra giù 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 destra 5 ritarda per ritarda sinistra 6 dentro salta 50 in sinistra 5 e a fila sporca in destra 4 più destra 3 più taglia alle stand andando perfetto dosso in destra 3 più in sinistra 5 ritarda 30 in destra 6 a rail in sinistra 5 lunga lunga tieni alle pietre in ritarda sinistra 5 lunga 20 allo scollino destra 3 per destra 6 al muretto sporco in sinistra 3 più ritarda in destra 4 tieni per sinistra destra 6 taglia e subito sinistra 6 ritarda in sinistra 5 attenzione stacca destra 3 bastarda grazie